che stai versando a sto bicchiere? che stai facendo a mangiare in un pub al popolo ma dici, dici, fortunato ma dici, dici, fortunato, c'è faccio un brindisi, faccio un brindisi faccio un brindisi, faccio un brindisi faccio un sweet man, faccio i cazzo che Mario fa la parte che Mario fa la parte un ubriaco allora si fa tutto il tratto tra pensiamo a Pitelli comunque finita la funiculare a scendere no, ripigliamo, ripigliamo ripigliamo e in pratica Mario fa la parte del ubriaco io sono l'unico a coprire il cuore Mario arriva addirittura a fare una parte no, aspetta ma fa la parte finta fa marcia nella scena Mario ha costruito un po' la manchina funiculare e io ci sono tutte fatte no, guarda e si è spinto il cuore ma faceva finta o vero? e si ce l'aveva finta all'epoca ma ora si faceva meno si è spinto il cuore ah, che amare, si è spinto il cuore che stai che stai io stai facendo fa un culo la pineale molto